Accordo fatto tra Stellantis e governo. Termoli tira un sospiro di sollievo. La Gigafactory si farà in Molise, sarà la terza del gruppo in Europa. Del progetto aveva parlato lo stesso CEO di Stellantis, Carlo Stavares, qualche giorno fa, rimarcando però il fatto che la discussione con i ministeri e l'esecutivo fosse ancora in corso e mettendo così in allarme i sindacati. Ora però il dossier sembrerebbe chiuso, come riferiscono fonti di stampa con un investimento di circa 2 miliardi e mezzo a fronte di 370 milioni che dovrebbero essere garantiti dallo Stato. Stellantis ha più volte annunciato che investirà oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell'elettrificazione nel software. L'impegno su Termoli dopo Duvri in Francia e Kaiserslautern in Germania rientra in questa partita finanziaria che ha come obiettivo garantire che i veicoli elettrificati arrivino a rappresentare oltre il 70% delle vendite in Europa e più del 40% di quelle negli Stati Uniti entro il 2030. L'investimento su Termoli potrà garantire un futuro industriale a uno dei tre poli italiani di Stellantis destinati alla produzione di motori in una fase delicatissima che registra un ridimensionamento delle motorizzazioni tradizionali. Termoli, che oggi conta 2.400 addetti e una produzione media pari a 360 mila motori all'anno, ha alle spalle volumi quasi dimezzati in cinque anni, come ha rivelato l'ultimo report della FIMCISL, un sistema tra motori, basamenti e cambi che conta in Italia sei fabbriche e un totale di oltre 7 mila addetti. Grazie a tutti.